Ho detto un applauso grande, non è il 2 novembre, voglio sentire l'applauso! Allora dicevo, noi cominciamo con Suegno Latino, quindi io passo il microfono a Ettore. Magari un applauso, giusto perché ho detto lo no a Ettore. Grazie ragazzi, è sempre un piacere essere qua con voi, questa sera ci presentiamo come il solito con le nostre copie, noi siamo un pochino tirati verso le competizioni e facciamo entrare subito le prime due copie, vi faremo vedere una combinata canaleica che per noi significa partire con una salsa cubana. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Escono contente di aver ballato e lasciano il posto alle prossime coppie che si eserciperanno, ci faranno godere di un merendio merengue Grazie a tutti 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 Grazie a tutti